Produzione a basso costo di idrogeno verde, il carburante del futuro, tecnologie che migliorano la vita dei disabili, per la sanità, l'industria, l'agricoltura, l'intelligence. Il motore della Startup Nation accelera, un ecosistema favorevole basato sul dialogo tra industria, mondo accademico e governo. Oggi sono 45 le aziende definite unicorni, da più di un miliardo di dollari e di queste ben 15 nate negli ultimi mesi. In tutto in Israele sono oltre 6.000 le Startup, imprese piccole, giovani, ad alto contenuto tecnologico, in un paese più piccolo della Sicilia, con un sistema formativo di eccellenza, investimenti pubblici nel capitale di rischio, un esercito fortemente orientato alle nuove tecnologie. Il coronavirus dunque non ha frenato la corsa delle Startup. Tantissime società che hanno sviluppato tecnologia che ha saputo rispondere ad alcuni dei grandi temi di questo momento, alla migrazione ad esempio del sistema scolastico online, quanto alla messa in sicurezza di dati, di pezzi significativi, di economia reale che si è trasferita in rete. Sono tutte quante aziende che hanno visto degli incrementi di fatturato pazzeschi. Quindi qual è il segreto del successo delle Startup? Le Startup devono essere agili, flessibili, devono sapere cogliere l'opportunità in maniera da poter approfittare delle condizioni mutevoli del mercato.